Uno strumento molto interessante all'interno di Adobe Premiere Pro è il tool dedicato alle maschere. Infatti a determinati effetti è possibile applicare quelle che sono delle maschere così da poter oscurare determinate parti oppure ritagliare porzioni di quelle immagini grazie alle maschere. Nel mio caso un esempio dei più banali che può capitare e dover utilizzare le maschere. Ad esempio io in questa inquadratura ho un'automobile che porta esposta una targa. Ora il mio intento è quello di andare a sfocare questa targa per non renderla leggibile. Quindi andrò a prendere il mio effetto di sfocatura e andrò a trascinarlo qui sulla mia immagine. Ora prima di andare ad applicare l'effetto quindi a aumentare il valore per per applicare la sfocatura andiamo a creare un ritaglio ossia a tagliare questa porzione d'immagine. Come possiamo farlo? Beh all'interno del pannello controllo effetti proprio sotto la voce del nostro effetto dove è disponibile abbiamo la possibilità di creare delle maschere. Questi tre come vedete i concini sono presenti non solo sotto la sfocatura gaussiana ma anche sotto quella dell'opacità. Questo è perché è possibile ad esempio anche con l'effetto dell'opacità andare a realizzare delle maschere che servono ad esempio ad oscurarne parte quindi a ritagliare una parte di quell'immagine. L'esempio però che voglio apportarvi è quello sulla realizzazione di una maschera per un utilizzo specifico e abbiamo tre opzioni quella di poter creare una maschera ellittica, una maschera poligonale a quattro punti oppure di andare a disegnare noi la maschera che più ci interessa. Nel mio caso basta una maschera a quattro punti quindi mi basterà cliccare sopra e verrà creata una maschera all'interno del mio pannello monitor e compariranno una serie di opzioni dedicate alla maschera. Per prima cosa andiamo a zoomare all'interno della nostra interfaccia e andiamo a posizionare al meglio la nostra maschera. Quindi prendiamo i quattro vertici e andiamo a posizionarli sui punti dove vogliamo che la maschera termini. Una volta fatto questo abbiamo applicato quella che è la nostra maschera e possiamo andare a realizzare la sfocatura quindi ad aumentare questo parametro. Come vedete adesso l'effetto della sfocatura in questo caso è applicato solo ed esclusivamente a quella che è la nostra targa. Noi abbiamo una serie di controlli a schermo. Il primo è quello più in alto che è un controllo per abilitare una sfumatura della nostra maschera. Sfumatura che può essere controllata anche dal nostro pannello del controllo effetti. Abbiamo poi l'espansione della nostra maschera che ci permette di espandere i bordi della nostra maschera oppure l'opacità della stessa. Ma nel momento in cui andrò a Premiere Play la mia maschera rimarrà in quel posto. Questo perché deve essere animata e abbiamo due possibilità. O animarla a mano come andando a cliccare sui keyframe spostandoci nel tempo e andare a ripiazzare quelli che sono i punti della nostra maschera oppure farlo fare dove è possibile ad Adobe Premiere Pro. Come? Utilizzando questi controlli che servono per il tracking. Abbiamo la possibilità di tracciare un fotogramma dietro, di lanciare un play all'indietro per realizzare il tracking o al contrario realizzare un play e far analizzare tutto il footage oppure andare avanti di un fotogramma per volta. Io proverò a far andare a far analizzare tutta la mia sequenza da Adobe Premiere Pro e vediamo se la maschera risulterà corretta o meno. Terminato il calcolo andiamo a vedere e Adobe Premiere Pro ha realizzato tutta una serie di keyframe che vanno a mascherare la mia targa quindi a seguire la targa della mia auto per tutta la mia clip. Quindi adesso potrò andare ad aumentare ad esempio questo valore a 30 così da sfocarla completamente. La sfumatura della maschera a 20 pixel mi basterà premere play e vedere che la mia sfocatura è stata applicata alla mia immagine grazie ad una maschera.